Che bello, un'altra giornata di sole! Oh no, un'altra giornata di umani! Ce l'ho fatta! Ho inventato un computer che suona il piano esattamente come Beethoven! Ora vi faccio vedere! Computer, suonami la nona sinfonia! No, sono morto. Proprio come Beethoven! Mi scusi, dove posso caricare il cellulare? Qui c'è un cannone. Grazie! Davvero sai saltare 100 chilometri in altezza? Sì! Fammi vedere! Ok! Clicc! Finalmente! Sono riuscito a inventare l'animale definitivo! Il canerino! Oh no, si è staccato lo scotch! Sei il peggiore inventore di animali che esista! Almeno è ancora utilizzabile come un cane normale! Da grande voglio fare l'inventore! Si dice inventario! Ah! 20 anni dopo... I gatti sono esseri estremamente intelligenti. Per esempio, guardate questo gatto come compila la dichiarazione dei redditi. Mancano tipo metà pagine e una è tutta mangiata. Benvenuto nel team dello zoo di Penworld! Grazie! Può cominciare subito dando da mangiare ai pinguini! Ok! Questo video è stato realizzato grazie a buona cola! La cola buona! Che ore fai il tuo orologio? Tutte! E' il tuo cellulare quello che sta suonando? Sì! Devi essere molto orgogliosa di lui! Lo sono! Che caldo! Faccio una doccia! Bella idea! Ho fatto una doccia ma ancora più caldo di prima! Che strano! Vorrei delle banane! Mi spiace, sono esaurite! Sono già a 50 come passa il tempo! Ti ricordi quando ero giovane e non parlavo ancora con le sedie? Neanch'io! Carl Flakes, hai bevuto tu la pozione che dona la parola agli animali? No! Mi chiedo chi sia stato! Temo che non lo sapremo mai! C'era una volta un anatroccolo molto brutto! Un giorno si stufò di essere così super bruttissimo! Così diventò un razzo e andò sulla luna! Wow! Ho un'idea! Scarpe senza zucchine! E' l'idea più stupida che abbia mai sentito! Ciao amici e amiche magici e magiche! Il prossimo magazine è tutto su Bruco Gianluco! Quindi è fichissimo! Per piacere leggetelo! C'è anche un concorso fichissimo di cui vi parlerò presto! Ma si può vincere che facciamo un cartone insieme! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.